ok sono sul tuo canale bella stiamo in live bella facciamo un po di facciamo un po di facciamo dopo dobbiamo giocare il torneo mi dice che la tua live è offline come offline dice che qualche problema non aspetta nel quadro che non guarda la live per sconderci dietro a questa pietra tecnicamente a quale quindi cerchiamo di farci non la vedo ancora io in verità io vedo solo la tua copertina dai ma perché non va la live e poi dell'altra scala fa schifo sto stendo dietro eh dai che infame non state firmando tantissimi come la è morto ecco c'è 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 la live bella live rega e la cesta 1 qua c'è 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 questa lagga tutto il pc che stiamo non lo so l'altro tizio vabbè ci abbiamo uccidere i due cash allora so se l'altro tizio torneo coppa cash salva e sto pure lo scendino pensa un po ok regamo vale la live regava la live va tutto si no vabbè la vita qual è la lega vabbava comunque aveva accettato di questo e non mi è arrivata la tua cosa sei vasco 007 medico chi cavolo sei sei vinci non me la fai noi siamo già amici vinci ecco l'ho trovata la trova la trova il fanteria non si sta in sniper e non si sta in quello blu no i gradi come poi l'altro bocchino perché se non posso vedere la chart a brado il momento ma non gioco il telefono il momento dopo che non avevamo di accendere anche perché va lento beh comunque Luigi prima stava in live prima Luigi stava in live eccolo ecco ti ho un piccolo problema a francia ma tu sta ancora in lato base davvero è vinto un po che ha comunque l'ha sistemato il modi di 6 godi si no la ma cosa morì non è niente che c'è una buona e c'è la safe vicinissima mamma mia non so perché ma dalla tua live vedo metà schermo e lo so è perché devo giocare in quattro terzi e in quattro terzi metà schermo non si vede c'è un quarto di schermo non si vede ma numato si è morto io se stai guardare live vince l'uomo guardare live ma sono morto miss quanta vita aveva tanta perché si vedono le cose in ritardo perché se no poi mi stai liberate abbiamo fatto passato tutto ma quindi adesso lo stesso signo smetterà no c'è il di lei c'è di lei non puoi stai capito ma questa messa noi non potevo muovere ma come si scherzo ma io mi scherzo ma io mi metto la mappa perchè ho fatto questa scala ho fatto questa scala è caduto fuori mappa va bene anche per la stream ma non mi muovo me doveva morire ma d'orica che lag la stream no vengono a tutta la stream pure a me ragazzi ho buttato fuori pure a me non la so pure a noi ci hanno buttato fuori non l'ho buttato fuori ma l'ho buttato fuori non l'ho buttato fuori ma sono carinciata con la scala ma che bagge strano rifacciamo possiamo fare ma possiamo fare qualcos'altro siamo cinque dovremmo fa squad solo che non c'è c'è e facciamo rissa cosa di corsa c'è a me non fai pure esperienza l'esperienza ma restava schifo e stava schifo infatti dove devo alzare un po il volume del se non ci sento indietro rica dovremmo se dobbiamo fa squad uno se ne deve andare mi dispiace facciamo di nuovo creativo si facciamo di nuovo creativo va bene vediamo un po ma do alzato tipo dopo il volume a iv ci sta ci sta no ci sta tutto no dai mi sto cambiando schiene ma quindi non laga non la si laga tanto ah iv ci sta ci sta no ci sta tutto aspetta però devo togliere il volume dai raga che tra 40 minuti inizia il torneo eh what che lag perché sono una schiena nabbo non ho niente non è sempre la testa mappa si però io non ho un p a sto alla schiena nabbo no facciamo un altro per favore la data che mi scuscia non è passato che tu praticamente si vede la schiena nabbo però la schiena normale no mo ce l'amo ce l'ho ah raga facciamo un'altra mappa sempre facciamo e quale però c'è raga ne conoscete uno ecco questa tv 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 siamo in cinque una squadra da tre e una squadra da due io in quale sto? no no le squadre sono casuali in teoria se tutto andrebbe bene se non va bene per essere con cristian guai da 5 5 spettatori no raga però possiamo possiamo anche scegliere così super spettatori sono in cinque sono tutti noi mettendoci in squadre diverse possiamo scegliere un attimo testo no no i galli e mappe facciamo se dentro di tutti e si va bene dove andiamo due tre avviate quale mappa era raga raga ditemelo ah ma vinci non c'è non ci sono raga per favore video di la mappa che è o no per esaltare per esaltare aspettate vinci non sappiamo ma c'era la mappa sulla destra la prima sulla destra ok va bene noi abbiamo e basta noi avviamo e basta avviate c'è ma c'è sta qualcuno che io sta da solo sono no 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 anche io che ti frega vabbè 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 io sto con francesco vabbè a me piace questa da solo non vediamo l'arco non vuole anche le cure non è un ottimo che ho preso la cura ma non valgo no alcune no è venuto da me no io per sbaglio sono insieme devi stare devi stare attento perché c'è pure a 6 ma non vuole viste a pushare scusa non ci stai tanto senti per a meno cazzo raga uno dei due dovete bilanciarmi proviene vieni dobbiamo andare sei pronto allora che sarei pure in team con voi eh vinci io sono solo pure io eh non mi faccio stare in team con voi no è casuale 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 però attento la safe toglie dieci in teoria eh toglie dieci in teoria si vieni 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 qua guardali quelli che stanno in team ah che male ho dieci di vita eh l'hanno dato eh vabbè gg ma ho ucciso l'altro vediamo quanta di da chat prost prost e full vabbè ma ora se li fa perché stanno bassi c'è francesco e full però non le bevani ma do bella non me l'aspettavo da francesco questa cosa non me l'aspettavo cristiana da quante volte io l'ho fatto io l'ho davvero io ho fatto troppe cose francesco ormai ha imparato per fra vediamo un po non ci però parlo perché tu ho fatto talmente tante cose che ha imparato con lui buongiorno tra le armi che ci sono non mi piacciono manco a me ma accontentati sì che cazzo di tipo il punto non lo uso quello ma è comma che cazzo di me va bene dai però e come vieni come l'ho giro c'è l'ansia la c'è uno ragazzo come iscritti ok già visti tutti ho già visti tutti provociamata col barretto è complicato ce l'abbia mente d'accordo però support rate si chiama pure coordinazione cioè dobbiamo essere coordinate che fanno una cosa del genere vieni come vieni come vieni come vieni come vieni come vieni come vieni che magari magari ci vediamo a dare neanche se in caso che vuoi farlo ci sono vieni attento di là attento di lato provato a prevali così che praticamente nostra è un po più avanti io salgo aia ah no giù io sono là stanno fai tanto l'oro solo madorica oh ma chi è che ha sciopato la skin morta fiamma oh io tengo la skin morta fiamma bella regata a mezz'ora inizia il torneo per questo di un po prima vuole della partita è ma pochissima vita sul moto no no non ce la faccio voglio voglio volarmi se riesci non mi riedita non mi riedita mi riedita mi riedita oh ora si no ma che arma mi ho preso no ma invio le armi no oh con chi sono? con me bene non sono mai capitato con nessuno per ora mi sa che il personaggio non sia tu io sono stato due volte con uno guarda lì che vogliono colpito mi credi ma dai aiuto quello lì è morto franci manu manu ci ha provato manu ci ha provato ho visto ma che volete dammi ora chiamano nei dieci no? hai capito capito dio una porta piccola no sono in 6 no no due a terra no in verità uno a terra ci sono un altro no no prison l'ho lasciato one shot ma qualcuno io sto sempre senza nessuno io sto sempre con qualcuno tranne il round di prima vabbè da adesso mi impegno avrò andiamo avanti subito aspetta usato a destra dentro a sinistra e di cecchino davanti stanno fa un attacco suicida e va bene eh sì infatti se si tira dei soldi e e vieni con me vieni con me no eh arrivo aspetta aspetta arrivo te sto a fa il passaggio arrivo 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 mhm tu ti spieghi una volta di già le seri ha visto va bene capito capito va bene capito niente no niente aspetta ehm me m'annettato ah no no vabbè ho ancora un avanti attento copriamo ma chi è che mi buscia vieni qua attento attento morto ahia l'ho sbagliato malissimo è morto è morto bravo dietro morto c'è l'altro ora tocca il cristian l'ho sbagliato no io sono morto tanto tanto no ho sbagliato che che sei andato io per l'altro non so un giro la mappa ci dovrebbe mettere in due contro due ma io stavo solo fidami tutti da solo è 1v1v1v1v1 si no ma io volevo fare 2v2 eh anch'io se no dopo prima di avviare cambiamo le squadre però cambiano squadre però cambiano squadre a caso si 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 non è ancora uscito io non vedo nessuno io non vedo nessuno a 27 minuti inizia il torneo eh vabbè non è che ci vuole manuello ma non è il suo te ma scusate un attimo c'è quel punto non è da un nuovo no e francesca morto ah ok quindi non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno per capire se vuoi una terappola se vuoi una terappola ma c'è il donno a caduta? non lo so quello che dice si 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 se c'è il donno a caduta allora scendo beh ah si si preso dei sottili eccomi e sei morto dalla selva eeeh oooh ho sentito il punto un doppio cecchino e uno è morto l'altro no vabbè e rica stavolta non avviamo la cacca non avviamo no è stato bellissimo ho corso e ne ho sparato subito e ne ho sparato subito non avviate non avviate non avviate non avviate non avviate aspetta io vado in squadra 2 vado in squadra 2 vado in squadra 2 se io vado con Christian è troppo easy quindi eeeh 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 con noi due Manuel ahah ok maaa siamo ancora tutti diversi ma raga siamo tutti diversi ahahah raga non ha funzionato ahahah la giochiamo no raga io ma diciamo a qui c'è l'ulta di qualcuno eh no non vale c'è l'ulta di qualcuno non vale prendo solo i gocci che sono finiti solo di prima come ho fatto a non piarti? eeeh chi stai live? chi stai live ha visto che ti avevo letteralmente colpito oppure l'ulta oppure l'ulta non sta c'è l'ulta ma sta c'è l'ulta senza pensieri senza pensieri l'insalatina per stare giri io vado a mettere altre isole ok va bene intanto se vuoi guardarla dipende se ce l'ho credo di avercela però non lo so mettire si la diversi sblu metti la mettiamo dopo però e le lasciate la le squadre sono casuali le squadre no le squadre non sono casuali le puoi cambiare dopo quando quando fai anche quando fai le puoi cambiare no è sotto 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 però io mi devo ancora rigenerare non mi rigenero forse ho fatto una brutta scelta ad uscire prima della partita della fine della partita andiamo a vicino a dai che palle vai rega torniamo al centro torna lì ragà ma voi mi vedete al centro dove non ho mai visto questa coppa di adesso ragazzi abbandono e ritorno perchè mi s'abbagò aspetta c'è scritto qualcosa fermo i vincitori del torneo, ci sono degli blitz tit, zend e suesis e francesco ma tu sei un hub non puoi vincere la creativa ahahah 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 io lui siamo in squadra insieme io francesco ma pure aspettate aspettate dai viace si può cambiare squadra quindi se non siamo a scuola red vs blu no sbagliate non l'ho messa non la metti fra la metti la cosa cioè dai non me la fa metti ce l'ho non me la fa metti ma perchè c'è uno dentro ecco perchè ecco ok riep bottle flip dove faccio bottle flip sulla coppa venga faccio bottle flip sulla coppa venga faccio bottle flip sulla coppa pietro su pallone guardate ho messo la mia bottle dentro la coppa guardate dentro la coppa robina sono mia bottle non è bottle si è una bottle bottle vuol dire bottiglia oh l'ho fatta di tappo bello guarda qua su can l'ho fatta di tappo sull'autobus c'è c'è niente ma era uguale france e vabbè è entrato l'altro si è entrato in mano due contro due eh no è meglio se vedo con l'altro no 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 che ti fa rica tanto so scarso scarso dove sta il pompa e le cure valgono accesso ah ecco il pompa che mi piace a me ma le cure no si dai sceltine valgono però non valgono non valgono le granate quelle la quelle tonica nell'atomica non vale ok no no niente a me fa stifo l'atomica al meglio che me la metto anche io se vale no io l'ho presa l'atomica ma c'è il cecchino no 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 anche io volevo il cecchino però non c'è già fatto tre 33 eh gli ho fatto già 36 in volo 36 in volo dai cristiana l'ho distrutto sta tranquillo no a terra uno rica però io forse volevo fare tre contro uno rica dopo voglio fare tre contro uno dopo voglio però no 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 ora lo facciamo eh però io a te non ti posso sparare posso sparare si basta che ti cambi squadra non si può non si può tu non si può no ah vabbè lo facciamo prima da avviare la partita dopo dopo togliamo la partita questo è un one shot eh eh lo so terra cristiana dai rica io voglio fare contro uno anche se so che perdo so che perdo eh rica voglio fare contro uno anche se so che perdo però l'altra volta due contro uno stava vincendo manuel distrutti tutti e due faccio un po' di eric va oh chi è questo? oh chi è questo? oh chi è questo? pensavo che è la manu pensavo che è la manu pensavo che è la manu dai rica dai rica stoppiamo la partita ho fatto contro uno dimmi la mia città chi è che può stoppare la partita? chi è che può stoppare la partita? chi l'ha attivata? chi l'ha attivata? chi l'ha attivata? c'è? io no io no manco io io non l'ho attivata chi l'ha attivata rica? non so ah non lo so e' un hit e' one hit calcola eh eh vabbè forse ragazzi forse riesco a esistere non posso interminare rica chi è che l'ha avviata? io no io controllo non posso rica allora torniamo al centro rica di sono tornato al centro eh sono tornato al centro eh sono tornato al centro sono tornato al centro la partita che bello uno due aspetta aspettiamo un manuel no venite se avete tolto la partita quando siete usciti aspettate che io vado in squadra non avviate eh non avviate per niente per niente la partita seleziona squadra io vado in squadra 16 ciao eh Franci tu vieni in squadra 1 ok e' anche l'altro tu stai squadra 1? ehm quindi a lui non lo può sentire a te si quindi andiamo rica non so se esisto però ci provo vale tutto tranne le cose fumogene no però facciamo anche voi non potete usare le cure rica ma mi sa che abbiamo ancora sbagliato le squadre eh rica fa eh manuel vabbè fa niente vabbè fa niente vabbè riprendiamo tutto ma le cure le sue posso tenere? ci stava un'altra mappa? io non lo so che sta io sono a pushare vabbè un 2 contro 2 è buono doppio 23 23 è bianchissimo doppio 23 bianco mi fai il kille pro mi fai il kille? mi fai il kille? eh no ti fai grazie no 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 non ci credo mi hai sparato tutti i colpi mi distruggo stata un filo ma non ma io stavo a testo spiagliato a testo spiagliato a testo spiagliato finisce il torneo quindi fino tipo alle 9 ah bueno fino alle 9 fino alle 9 finisce il torneo no alle 9 finisce si fino alle 9 cioè si possono fare partite perchè è a punti è tipo arena ah che male un attimo che fai nel kille francesco così almeno può riuscire non ci sono le drappole eh dai non mi è andata lady ti sono le due ti è lo buon si non ci sono le due ah e tanto abbiamo l'immunità infami adesso però veniamo noi chiamo cristiana 44 blu non mette più armi che palle tutta la riga per questo io non volevo usare l'atomican perchè ora stiamo tutti a sparmare con l'atomican ma non è l'atomican beh su in effetti è un allenamento devo giocare forte cioè tryhard no però più forte di come sta giocando è un allenamento alla fine cristiana facciamo alla loro base quello che tu avevi fatto alla nostra ah si è vero ti ricordi ancora sai che mi ricordo no gli scorpioni non dimenticano le cose brutte è vero è vero è vero fa la killalo nooo nooo no devi fare la killalo no lo devi fare la killagri no lo devi fare la killagri Cristiana io sto in base qui io puoi stare tranquillo unico problema io ho capito bella bella serata bella serata nooo bella ciao Manu ci vado tra i piedi ci vado tra i piedi bravo bravo di blocco Ancora scelta E' già scelta Oddio Beh si si può scelta Vieni vieni E' tanto ora non ti lasciamo il tempo Ecco io avevo fatto il percorso Per arrivare sempre da voi Avevo fatto il percorso e ora lo rifaccio E' rifarlo il percorso Si lo stai fa E' mentre io gli sto da fastidio L'ha arrestato? Si Non dove stanno? Qua nella loro base E' non l'avevo visto Comunque l'ho fatto il passaggio Che arriva direttamente qua Oh mi devi fare una chilla Oddio ma questo sta qua Mi devi fare una chilla Fancy E' non lo sto facendo con Manu Ok Grazie Grazie rimuovere anche adesso Perché abbiamo fatto di nuovo il co Ma non l'avevo fatto il passaggio eh Tu basta che vai sempre dritto Appena spawni sempre dritto Ah Ma non c'è Bravo a venire Stavo a venire Aio Farai a chilla Dove stai? Qua Dove stai? Sto di fronte a te No Che culo No Bella Bella Cristiana Sto arrivando? Easy Easy Rinchiutiamolo in basso Eh per noi è meglio Cosa è quello che vuole Aia Aia 110 a Francesco Con questi piedi E' 72 Francesco è morto eh Si ma mi è morto Poi e lui guarda No Ehm Che? Non ti posso restare No no Fa a chilla mia Raggi ma non mi pigli 8 minuti Raga 8 minuti eh Poi Vado a fare il torneo Poi voi se volete guardate la live Se non volete non fa niente Oh io fa neanche ella Bella mira eh Bella mira Adesso è morto io Ah no Fa nel killami Oh non ti muove 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 Non te lo consiglio Ah vabbè 132 Morto Bella mi ha dato la kill Bella mi ha dato la kill Aspetta sciamu sciamu Se no ci pigliano E ci hanno l'immunità Dov'è 47 a 47 blu a Francesco Sono morto io eh Ahia Eh anche io Ah beh io comincerò a tornare in lobby eh Abbandono 44 Se volete stare Se volete Manuele se vuoi ti chiamo Se vuoi ti chiamo Cos'è noi rimaniamo in contatto Ma ti sento alla live Non serve per me Eh però io non sento a te Ti voglio parlare con te Mentre faccio il torneo Mi serve Mi serve Ehm Cri Ho il telefono scarico Pure io Vabbè fa niente allora eh Ciao Ciao Sì Scrivi qualcosa in chat ogni tanto eh Sì Ok ragazzi Aspettiamo Presto in arrivo Inizia da 6 minuti Premi e ricompense Migliori 1 2 milioni e 5 Nonno vieni un attimo Vabbè fa niente Qua? Ah vabbè è sempre uguale Inizia da 40 dai giorni C'è 5 minuti inizia Intanto vado al bagno Camiella mi sta arrivando Con il delicia C'è 5 minuti inizia Tras Vabbè C'è solo Sì Pannenta C'è Così Oh, lui. Quattro minuti inizia il torneo. Quattro minuti inizia il torneo. Sì, lo so, lo so, però non hai la qualificazione per partecipare. C'è scritto lega contendenti. Quattro minuti inizia il torneo. Va bene. Ciao. Sì, sì. Ciao. Vediamo perché non ho la qualificazione. Io sto a lega contendenti. www.happygames.com 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 no chi è questa cosa oggi che giorno è di agosto 19 questa è un'accettazione lega aperta divisione 0 lega contendenti 2000-2009 3, 2, 1 c'è però io perché non posso perché non posso perché non posso dai però mi hai buggato ma devo entrare per forza con l'altro account non mi va entra con l'altro account da 7000 punti perché questo evento è ora attivo si però non mi fa coppa cash dei contendenti ci sto però voglio acqua al volo però che pizze ok manu non lo posso fare sto torneo perché non lo so se è buggato tutto c'è scritto che non mi va di entra con l'altro account dove tagliarlo in arena perché sennò vedono le cose le mail e la password però non mi fa entrare dice che sto in lega contendenti perché su questo account ho 2000 punti però non mi fa entrare mi dice che non hai lega non sei abbastanza non lo so perché non ho entrato forse perché questo è lega campioni no questo è lega local che puoi che paio che pali lo fare non ho mai l'ho fatto apposta faccio fatto apposta la live ma nemmeno posso fare il torneo però fa mille punti al volo però non è tanto easy fa mille punti così poco tempo ma non è tutto a trofe non le 9 eh però a volte a volte faccio un botto di punti a volte ne perdo troppi è difficile vabbè vai che prova a fare stimi le punte sì bravo bravo dopo quando torni in lobby vai su competi vai su coppa cash cosa c'è scritto basta essere in lega contendenti e non me lo fa 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 schifo sto gioco di schifo mi si bugga pure mi si bugga pure la cosa guarda qua si va bene va non posso nemmeno far il torneo gioco schifoso fa schifo sto gioco vabbè vabbè se la live la finisco qua sono troppo sono troppo non lo so ho vabbè ho ho bebo questo sì la posso fa sia sbloccata i casi yes di essere gara 4 e 4 ore 4 e dettagli torneo punteggio vittoria reale 3 punti raggiungo la top 5 2 punti qui top 15 2 punti top 25 3 punti ogni eliminazione un punto sì va bene chiedi agli altri se possono guardare la live vedi se non lo so vabbè fa niente troppo così ciao 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 yes raga yes vado a vedere un attimo su youtube se c'è qualcuno che sta a fa che sta a fa il sudè sta a giugam va bene intruzione e accettazione secondo vittoria reale 15 punti posizione premio contendenti na ovest na ovest europa che pizza non fa così così non vuole non vuole non vuole personale vittoria vittoria non vuole vittoria 3 ore e 52 minuti per fare più punti possibili il bus e non togliere due punti no togliati in assoluto venga scusate se non vedo la chat ogni tanto la guardo però oh ma quanto ci vuole attraverso una partita oh ma c'è gente fortissima e rispetto a tutti questi sono scarsissimo devo andare a pinnacoli perché a pinnacoli mi può capitare la partita sbagliata e faccio 0 kill mi può capitare la partita della madonna e ne faccio 4 o 5 spero di trovare subito un pompa del nonno qualcosa di buono per sparare c'è gente? effettivamente c'è poca gente perché non c'è nessuno meglio perché qua si trovano tutti armi buone eh no c'è qualcuno effettivamente dove cavolo stai scemo godo colpo un paio regale sono morto dovevo spammare con la cosa va bene un massimo 15 partite sta cosa non l'avevo letta no allora me la devo campierà me la campero me la campero tantissimo regà regà me la campero tantissimo me la campero tantissimo allora se le partite contate top 25 è già su 3 punti ed è buono eh sì ma io che ne sapevo che c'erano massimo 15 partite quick shooter guarda qua quanto soffo forti di sicuro la me la potrò giocare meglio eh andò rica quanto soffo la grau camper camper gerusalemme o a proto o qua gerusalemme ci potrebbe sta gente beh suba dai me la rischio a gerusalemme anzi no vado al gelataio vado che ansia e se giocavo la world cup che ansia avevo vabbè che non è non è l'unico giorno che ho per giocare però ok non c'è nessuno al gelataio ok non c'è nessuno al gelataio se ci fosse qualcuno se ci fosse qualcuno piglia subito già sto pompa e qui non c'è nessuno al gelataio non c'è nessuno al gelato e che non c'è nessuno al gelato non c'è nessuno al gelato lontanissimo non è lontanissima ma ma do che lag in questo torneo proprio non deve laggare ve lo faccio subito lo scildone va è utile sono utili quelle venga comunque devo trovare qualcuno che mi fa qualcuno per il torneo in terzetto che si fa domani se qualcuno vuole giocare con me in terzetto meno male che sono sceso qua che c'ho pure tanto legno tanta roba guarda che è in 71 ancora a volte mi capitava sull'altro account che stavamo ancora in 80 ora quindi non mi stanno andando nemmeno malissimo devo essere full di tutti i materiali praticamente devo fare il buco della situazione in questa partita speravo che era un asalto verde o un pompa del nonno verde non posso andare in giro col tattico ok full legno fai tutto sto metallo che c'è qua allora di materiali sto messo pure abbastanza bene e di armi che non sto messo benissimo ovviamente io sopra il cono gelato è di spero qua c'è la cesta sopra il cono gelato è di metallo qua altro è il metallo che viene da me le bende non mi servono ora spacca fai così devo prendere pure la pedra ok altro è il metallo voglio spaccare un attimo sti camion per avere full metallo e dopo mi manca solo la pietra ok solo la pietra mi manca adesso proprio full tutto e non essere preoccupato di mazzo vabbè direi che ora basta ancora 0 punti chissà i problemi e quanti punti stanno fino agli 9 all'it all'it Genta. scappa stanno la madonna quelli sono forti non io bello sto 19 però il 19 gliel'ho fatto il 19 gliel'ho fatto ok non vedo quanti è c'è stato da gente all'andria c'è un anche giusto no vediamo se riesco a punire niente si eccola basta madonna mi devo grattare il piede mi devo grattare la spalla i zanzari mannaggia loro cestela già l'ho preso ho già finito la sfida mannaggia lui mannaggia ma no che lag scappa ancora finito adesso è morto ragazzi ma i perotti per me raga i perotti per me mi dispiace me la campero un attimo qua dentro ok full piede e full metallo ci sono bravo scemo ha sprecato pure un raggio mi devono morire otto persone prima di me poi posso pure morire però prima otto persone devono morire per forza ma do quelli come stanno fai da mi do al momento giusto che cavolo vuoi della mia vita e vabbè ma che cavolo vuoi da me ci stanno altre 28 persone che vuoi da me beh ma questo è forte grazie dopo tutti i forti mo qua cioè dopo tutti i forti mo che cavolo faccio chiudere come sta messo che punti non sono abbonato 5 kg eh fea e festa 96 è sta andata male e sta andata male male è sta andata male 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 Ok. No, vabbè. Eh, raga, non mi qualifico. Non riesco. Vado a sponde. In 15 game massimi ne ho già buttati due. Zero punti in due game. Va bene che ci sono altri giorni, altri giorni, altri game, però non credo di riuscire a qualificarmi. In 15 game, oggi voglio fare almeno 15 punti, almeno. 10 punti, 15 punti, voglio farli almeno. Non ci riesco, non ci riuscirò. Perché non ci riuscirò. Però se fa così non ci riesco, no. Ok. Anzi, forse mi chiami la pistoletta. Oh, dai, perché è boccato? Quindi non riesci a stare il coso, vedete? È solo che non lo renderizza. Dobbiamo rimanere in 25. Bello questo. No, non questo, questo fa schifo. Ma quanti cilidini c'ho, eh, oh. No, vabbè, regalagga troppo. È ingiocabile. Ma dopo, mi dispiace un botto di non qualificarmi. Vita mia! Cosa ho visto? Mi fullo tutto di materiali. Mi fullo completamente di materiali. Cioè, non completamente, completamente, eh. Però, quasi. Questo è inutile, no. Beh, regalagga, ma allora, easy per me. Oddio. Non ci credo di aver trovato il lama. Tanto vedderà comunque. Manco il peso, cioè, scemo, non mi vede. Grande, Christian, che ti fai vedere? Grande! Fortissimo e tatticissimo. Grazie, sono morto. Ehm, sono morto. Perchè lui c'ha il combat? Io nooo. Ho bruciato un game così. Un altro game. Perchè gli ho dovuto sparà? Cioè, che vogliono da me? Ehm, non mi qualifico, sono scarso rispetto a questi. Sono tutti troppo forti. Cioè, non ce la posso farà. Non c'è il coso. Il bot. Non c'è il coso. Eh, vedi, ho scritto qualcosa in chat. No. No. non ho capito che muoio subito vado in posti dove c'è tanta gente almeno se io trovo un'arma un altro non lo trovo intanto lo uccido e faccio un punto però come sta messo chiude raga vedete quanto sono un abbo va bene che io stavo attento però io ce l'ha a capo eh questo dove sta andare c'è il pompa sono morto no mia le kill infame che palle oh oh raga ma che cavolo è questo un pro player raga ma avete visto cosa ha fatto dai raga però che pizze non ce la faccio non ce la faccio raga zero punti in quattro game non c'ho parole non c'ho ne ho perso vediamo quanti punti c'ha tre punti anche lui però lui ha fatto meno game di me devo andare in un posto appollato e spera che non che non mi uccidano devo andare a pinnacoli o a palmetto o a borgo poi preferisco palmetto per chi è più aperto è un po' più chiuso ma va almeno l'audio ok va l'audio però non lo so che cavolo sta succedere devo fare almeno un punto voglio dire un punto un punto lo riuscirò a fare proprio tanto cioè tanto ormai non mi riesco a qualificare però almeno un punto fate me lo fa tutti stanno messo benissimo di punti io sono l'unico messo male a sponde ci viene pure un botto di gente dove voglio andare a sponde c'è un botto di gente da qualche parte dove c'è un po' di root non è sconosciuto ma non sono venuti qua allora cioè stanno tutti di là qua non c'è nessuno però se magari renderizzassi i frame magari come perdere un torneo ma lì c'è il pompa a meno che non metto tutti i colpi però cosa che non riesco ma che cavolo di gioco schifoso eh non mi renderizzare le cose non posso non posso luttare non posso fare un cavolo eh dio ho perso che devo che gioco a fare tanto qua dovevo tutti forti che gioco a fare che gioco a fare tanto ho perso ho bruciato 5 game 5 game 0 punti vittorio reale 0 punti eliminazione 0 punti aspettate devo parla con l'uno un po' di gioco 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 coppa che esce quelli di lega campioni come cavolo faccio questa cosa tomaso costantini non ci ho perso le speranze ormai un punto lo voglio fa uno guardate che quanta gente viene riuscirò a fare una kill una chiedo una guardate quanta gente ovviamente non mi renderizza le case ma una casa che mi renderizza una niente perso basta mi vado qua fino a che non me le renderizzo ma che cavolo di gioco è che cavolo di gioco è raga è stato a vedere come sta gioca raga non ce la faccio è impossibile vincere è impossibile giocare proprio è diverso ma che impostazioni ho messo niente ho messo niente ho messo niente ho detto come non è vero come fa buca di essere così forte Grazie a tutti. buca così tanto mai perdere per perdere venticinquesimo non ci arriverò mai non sento neanche più l'audio ma ti pareva che non mi renderizzava le case ti pareva che non me le renderizzava ti pareva dove scendo io e la renderizzata questa ok ma tanto lag dai rega ma non muore non muore non muore 5 di vita gli ho lasciato non muore ma che cavolo di gioco è che me lo so scaricato a farlo desistallo addio non c'è una uno che non one shot uno lo scopo del rompicampo è quello di creare due strati di 4x5 quindi 4x5 ok 4x5 usando i 7 pezzi io non ho ancora capito dove sono i 7 pezzi ma penso che siano questi blocchetti attaccati è abbastanza difficile quindi buon divertimento grazie bene ti arriva con la scatolina di legno guarda che bella dove tu vuoi chiuderla e iniziare il rompicampo quindi senza perdere altro tempo io direi di mettermi subito al top per fare un leg comunque lo rovescio subito lo rovescio subito ok bene molto così non ho esperimenti più esperimenti e roba di capo perfetto e ottimo molto ottimo metto il cronometro qua c'è poco spazio il cronometro è partito e io proverai al rispargare il cavallo c'è la lega non è e la lega sta andando malissimo male 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 solo xyuder a 6 punti io lo zaro certo magari se campero un po' di meno riesco pure io a farlo se campero di più magari qualche punto lo riesco a farlo io solo che se mi renderizzasse le case se mi renderizzasse queste due cose queste due cose schifose sarebbe tutto bello a mo me le renderizzi a mo che c'è andata gente pure di là a mo me le renderizzi non prima sì godo godo e stavo comunque per morire tra l'altro si un punto almeno uno leva sta pistola un punto finalmente ho visto che c'era il combat sono andato subito a pushare si che sguazzi perfetto eh mo è fluido non prima nelle altre partite mo è fluido no raga no no vabbè ci stanno i brutti pure in questa in questa modalità no intersetto come facciamo giocare intersetto la gente come fa giocare intersetto raga no lo sta la prossima safe ok ci sto un punto su il mio obiettivo è fare più punti di xiudel poi posso fare posso pure non qualificarmi tanto non succede ok buono non lo butto il succo succoso anzi me lo piglio e me lo porto a casa in questa modalità il nonno non lo uso buono pure lo scildone ah finalmente un punto chiedevo uno lo chiedevo le granate non d'adulto mi possono salvare la vita ora in questo momento morga faccio faccio l'infame uso il rift all'infinito faccio l'infame faccio così easy così fino all'infinito perché mi spawna sempre più lontano continuo così all'infinito autocorsa attivata e via che goduria fai così come fanno i nabbi che goduria finché qualcuno non mi prende col barret o me la sera con l'assalto lo scaio o qualcos'altro devo devono rimanere 25 persone ok bisogna di capire altri due punti continuo così non mi prende niente poi do fastidio pure a quelli che fai non mi prende per che via che non mi prende che non mi prende perché non mi spawnais non mi prende per che non mi prende ma non mi prende qui Perché mi spawna sempre più lontano Mi devi spawnare sopra la sfera Non così No Scemo Vabbè intanto mi apro questa cesta Ovviamente Non trovo nulla La mia magnifica fortuna 11 persone Anzi 10 persone devono morire Easy 5 persone 10 persone Scusate Non devono morire 11 Ma volete morire Dico io Volete morire Perché la gente non muore più Perché la gente non muore più Una persona alla volta Basta che morite No Astral Astral 1x Sta usando il bruto No La gente sta usando il bruto Sette persone 6 persone Devono morire 5 persone 4 persone 4 persone 3 persone 2 persone 2 persone 1 4 persone Ma doi Se muoio Se muoio Se muoio No No C'è uno che sta a fare come me Una persona Deve morire Una 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 Sì Adesso ho altre 10 Altre 10 Venga se mi interio fa sta cosa Siamo in tre a fa sta cosa Rikami Non ti ti conto Ah beh Rikami Quattro Per loro ne dubito Che ne moriranno Altre 10 E che noi continuiamo a fare così Lo dubito No Rikami Mi ha spawnato lontanissimo Non ce l'ho io Anzi No Sì 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 23 Altre 13 Prima erano 10 No Così ce ne abbiamo altri 2 In teoria Dopo altre 10 Ancora E dopo altre 4 Ti sa che si deve Quanti punti sta No 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 Infano Vabbè C'ho lo scendone Infatti scappio Io Basta Vado in quella casetta Alla camperare Intanto ne faccio Poi lo scendone C'è gente Perché la mia vita fa schifo Il compito Let's Stain Save In The box We got Di venga devo andare passo passo con la tempesta alle altre cinque persone su morite ma quanti punti sta a chiudere penso più di me 7 ok se prendo questi due punti e poi prendo pure la top 5 merda pezzamento 3 punti e eliminazione 1 ok 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 0 spettatori ma dai 0 spettatori 4 punti su destra 10 che anna back ok 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 10 punti in tre parti di idee io sto all'ottava e sto a 4 punti devo fare tanti dopo guardo la classifica vabbè ragazzi ho altri tipo 7 partite per recuperare tantissimi punti guardo sono il più basso madonna sono il più basso mi renderizzassi una casa almeno doi ho fatto i nuovi quattro punti ma vedete come cavolo come faccio a giocare così come faccio a giocare così è impossibile è una cosa impossibile vediamo la classifica dettagli del torneo punteggio indietro classifica della sezione vedo a più tardi terzi tico coppa cash questi sono solo della roba dei campioni do mentos le twig 130 punti Quanti soldi hanno vinto? 96 milioni Vabbè ragazzi ci sto a provare perché ci sto a provare però è impossibile è una cosa impossibile Bottle flippo se faccio 30 kill ce la faccio pure ma falle i 30 kill sono in live da due ore c'ho un lama lo pingo ma è inutile che vengo in questa città intanto non me le renderizza ma no questa è una renderizzata incredibile ma vero non ci sono armi perché non ci sono armi ah no una rivolve incredibile ma vero una rivolve qua c'è stata una cesta bello chi è? non ora chiudi la porta chiudi la porta e vabbè regà ma cosa cavolo è successo? no regà questo me lo aspetto questo me lo aspetto assolutamente non ho mai visto uno con così tanta mira regà non ha senso questa cosa regà ma è il più forte del mondo è una mira della madonna regà ma avete visto? stavo in aria ma ha distrutto quello stava a volare ma ha distrutto regà lui 11 vedo altre gente facciamo il tonneau coppa cash facciamo il tonneau coppa cash max random quanti punti sta? 15 forse torna coppa cash lui 14 avevo letto 50 13 lui lui ora siete come la mia ah mo ci stanno lì le cose ok classifica aspettate che non ho visto niente l'ha visto il mingo flying madonna come fanno già stare a 40 punti scusate ma che cavolo no regà avete visto? sono 72 mi avevo letto tipo tipo no però no devo fare tanti punti devo campiare un voto venga ma è andata male cioè è andata male è andata male cioè non posso fare niente ormai c'è gente a 40 punti in 4 partite io sto a 10 partite e 4 punti cioè vorrei vedere ninja in questo momento di più buga su twitch non stanno tutti i live su twitch per forza canali consigliati wakins le prime persone sto messo benissimo un'alme dai regà ma lagga tutto gioco di merda gioco di merda a che cavolo di gioco sto a giocare a che cavolo di gioco sto a giocare 26 punti ma come cavolo faccio vediamo lui non me ne frega i punti ancora 4 partite ma faccio schifo vieni ah sta a fare server privati ovviamente c'è 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 ha bruciato tutti sti game 4 punti totali, 12 partite 12 scusi no, sì, questo era 12 eh, andata male dai raga, ma guardate che cavolo di giocatori te lo ho vabbè, a parte che ora stanno a giocare tutti i giocatori più forti del mondo eh, perché già se faccio una kill a me già è tanto, una kill a partita madonna se è tantissimo però raga questa cosa che ha all'inizio game non mi renderizza le case mi fa perdere poi lagga, lagga perché sto in live e quindi lagga tanto raga se campo in 25 rimasti non c'è io raga, me la renderizzate subito incredibile ma vero raga, ma quello come fa ad essere così basso? beh, io raga questa casa mo' è tutta mia bello belle armi, oh un'armata in altro colore? no, grigio vabbè, fulghe buono per ora lutto poi vado a vedere se ma forse fuori se c'è qualcosa da fare ma tanto non voglio immaginare in terzetto cosa a parte il terzetto è già finito però non voglio immaginare ce n'è uno là lancio che è un altro io perché perché si non cool Lega ma non muore Lega non muore E' impossibile Non muore Vediamo se riesco a cederne uno Yes Un altro punto Perché non mi ha dato il punto Lega l'ho ucciso Lega l'ho ucciso però Perché non mi ha dato il punto Dai Io l'avevo ucciso Non mi ha dato il punto 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 Quella altra gente Quella mia trappola Boh E là da ora in poi Faccio Faccio ASMR Non so cosa sta succedendo Non so cosa sta succedendo Però non lo so Vengare're mi piace Si è Non mi ha dato il punto 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 E' un'umai Per sbaglio ho abbassato il volume Invece deve essere al massimo Riuscirò a fare una kill? No Però ci provo Vabbè no e basta Non è che ci provo Guarda ragazze ho abbastato ovviamente troppo il volume Ovviamente bevo lo scildone da voi i cildini Ah vabbè per fortuna trovo un altro scildone Qua sempre può un po' si trovano Stavolta uso il nonno Mi ispira di più il nonno Non so perché ma il nonno mi ispira di più Bolt Le fialette Eh no Fai così e fai così Lascio le bandi Lascio le bandi Non c'è nessuno Non c'è nessuno Per fortuna Non c'è nessuno Non c'è nessuno Cheat Lungo una guai Una guaiissima Una scoop Ma do a quanto vuoto Vai ragazzi Stavolta troppo Yes Vabbè ragazzi Non servono a nulla le bandi Sì sì Che palle Tanto raga Quasi finito Che faccio più Due game Ancora due partite In cui posso fare Più di 50 punti Sì sì Più di 50 punti Sì sì Più di 50 punti 17 punti X-Uter Wow Mai punto a fare Kill Ora che forse Mi renderizza le case Magari se prima Me le renderizzava Le potevo fare Poi qualche punto in più Ma visto che non mi renderizza Le case Muorio per questo Dopo di questo Ho solo un'altra partita A disposizione Ma come me le renderizza Questa è la cosa Questa è la cosa Amo me le renderizza Appunto ho questa Sfiga di questo Scappa un po' Anche Se vedo qualcuno c'è gente in là non me la vorrei rischiare troppo per lo tanto ormai partita versa per partita versa perlomeno non c'ho ogni vuoto aspettate che non c'ho caso dai coltisco qualcuno aspettate altre altre a case altre leonardi ovviamente perlomeno 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 a perlomeno 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 boi gal pression perlomeno perlomeno sconosci alcune l'amore è un l'amore perlomeno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'ultima partita me la gioco così. Così faccio i partiti. Dio bello. Ho finito le partite, ho perso. Ho perso. No, chissà che mi dice. Ancora zero partite. Ho aggiunto. Il live è finito qua, ho perso. Spero che vi sia piaciuta. Iscrivetevi. Ciao ciao. Non posso. Benissimo. Non posso. Non posso. Non posso togliere la live. Mi voglio. Devo fare così. Devo fare così, così. Mi voglio. Mi voglio. No.